La cosa che ci piace di Bergamo è... Pane Strenu Olenta! Dalle mura alla città bassa, al borgo, al Borgopalazzo, il nostro borgo. L'affetto della gente e soprattutto l'accoglienza che ha ricevuto il primo giorno dalla famiglia Olimpia. Bergamo mi piace tutto, ma soprattutto lo spirito della sua gente. Il silenzio delle sue montagne. Non sono i bergamaschi, la nostra operosità, la nostra voglia di lavorare. La determinazione che hanno per fare ogni cosa. La resilienza dei bergamaschi, la loro capacità di reagire positivamente davanti alle difficoltà. Qualsiasi parte del mondo io possa essere, solo qui mi sentirò veramente a casa. Che delle difficoltà! Tocci di Danama! E l'affetto della gente al palazzetto e i panini del fornaio. Buonissimi! Una bellissima città in cui vivere. La sua gente perché non molla mai. La professionalità delle persone. Sono sempre pronte a lavorare ed aiutarsi una con l'altra. E la tribù. La vostra parlata, la parlata bergamasca. Città alta, forza Bergamo! Mi piace l'entusiasmo che crea. La forza di lottare e soprattutto l'Olimpia. La mia città, la mia gente e i bergamaschi sono forti, tenaci, caparbi e anche tanto generosi. E lo stanno dimostrando anche in questa situazione complicata e terribile. A noi di Bergamo piace tutto. Ci piace la gente, ci piacciono i bergamaschi che hanno un cuore grande, che lavorano su e non per gli altri. Ragazzi, forza Bergamo! Mola mia! Forza Bergamo! Mola mia! Bergamo! Mola mia! Non si molla mai! Mola mia! Forza Bergamo! Forza Bergamo! Non mollare! Mola via Bergamo! Mola mia! Bergamo! Mola mia! Bergamo! Mola mia! Forza Bergamo! Mola mia! Bergamo! Mola mia! La cosa che mi piace più di Bergamo? Venite, ve la faccio vedere. Mola mia! Mola mia! Mola mia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.